e adesso sono nella mia solita posizione ad allattare Camilla è venuta con noi, è stata bravissima io avevo un'ansia incredibile perché abbiamo registrato una cosa insieme ad Andrea e quindi c'era mia sorella, è rimasta con mia sorella però comunque il pensiero che mentre registravo magari lei stesse piangendo e tutto quanto mi metteva un pochino d'ansia, invece è stata buonissima e per fortuna adesso siamo rientrati a casa Rosalinda Cannavo ha recentemente raccontato un simpatico retroscena durante una registrazione televisiva fatta insieme al compagno Andrea Zenga che andrà in onda nei prossimi giorni la coppia ha deciso di portare con sé la piccola Camilla che è rimasta dietro le quinte con la zia Rosalinda ha sottolineato quanto sia stata tranquilla e serena la loro bambina durante tutta la giornata tuttavia una volta tornata a casa Camilla ha subito richiesto il latte della mamma dimostrando il forte legame con Rosalinda questo aneddoto mostra la dolce quotidianità della famiglia Cannavo Zenga che riesce a coniugare impegni professionali e vita familiare con naturalezza i fan della coppia credono che Rosalinda e Andrea potrebbero presto apparire insieme nel salotto di Verissimo anche se al momento non c'è stata alcuna conferma ufficiale in merito l'affetto del pubblico nei confronti della coppia cresce e i loro seguaci sono sempre più curiosi di vedere nuove apparizioni televisive e di scoprire come gestiscono la loro nuova vita da genitori un super serato che fa il latte di rose è tutto ok Rosalinda ha rimetti un video e le mangiere i miei Grazie per la visione!